ci siamo direttamente dal centro profughi di Bologna buongiorno stiamo andando a Raduna a Vicenza alla garage Cicindi l'agonismo da l'agonismo toglie abbiamo veramente dormito pochissimo 5 euro di pedaggio pagate con 20 euro solo monetine di resto brutta gente questi sono gli studi media set hai chiuso a chiave perché un conto è gareggiare, un conto è migliorare questo essenzialmente è un percorso a perdere l'agonismo a determinati livelli e in determinate circostanze non da nulla ma toglie soltanto la forza che attira il peso alla fine di una lega cosa succede se io arrivo fin da lui con un bastone si allontanava magari di poco, di 5 cm ma 5 cm su 10 kg applicati sono 50 kg in più sul bicipite quando usate un altro principio di fisiologia che è il focus monodirezionale, unidirezionale avete una riuscita a generare più forza sono lì, sto facendo monoarticolare, monomuscolare riesco ad impiargli tutto l'impulso e lui riuscirà a generare tutti i newton che riesce al massimo a fare in quel momento non c'è una dispersione tutti i muscoli l'incontro è finito ma ho avuto l'occasione veramente di imparare tanto è stato educativo ci hanno un po' spiegato quelle che sono le loro metodiche di allenamento non solo per quanto riguarda il pre-contest ma è stato un po' a 360 gradi sia come affrontare l'off season che l'on season e soprattutto molto interessante è stato anche come affrontare gli infortuni meglio per esempio hernie o altre patologie articolari soprattutto sul significato vero della propria escezione e veramente anche con modellini di prodotti in scala delle nostre articolazioni, delle nostre arti se avessero fatto tre giorni di coaching sarei venuto a tutti e tre e sarei rimasto a dormire anche un quarto me ne torno a casa con questi due souvenir per lettura veramente interessante e poi giusto per essere completi per quanto riguarda l'allenamento funzionale una lista di workout, esercizi questo è il resto che è stato dato a 20 euro prima a spettacolo a stronti a spettacolo a picc a picc a piciano a picc a picc a pic a piccall